In tanti anni di Itales Got Talent abbiamo visto tantissimi talenti contorsionisti, abbiamo visto topi che fanno percorsi tortuosi, abbiamo visto tipo dei ragazzi, anche ragazze che hanno una memoria incredibile, ricordano miliardi di cifre, però i miei colleghi giudici, i giudici di Got Talent, avranno qualche talento nascosto? Scopriamolo! Vado eh! Farle flip con la bottiglia, ahhh, scherzo! Se non ce la faccio! Guardare tutto a sinistra e a destra con i rispettivi occhi. E come faccio? A destra e a sinistra, a sinistra, e se guardo a sinistra non riesco a guardare a destra. Questo è tutto. Credo di essere andato bene. Tenere in equilibrio una moneta sul naso. Tengo un cucchiaino sul naso, ma non una moneta. E' stronzata. Perfetto. Eh, proprio una stronzata. Non avrà scritta feglie. Vabbè, dai, dai. Allora. Aria. Dire nome e cognome... No, che maledetti. Dire nome e cognome dei colleghi al contrario. Avete 40 minuti di tempo, più o meno. Allora. Posso dire Fede invece di Federica? Ed F. Fede Pelle. Ed F. Vado avanti. Oile tutti. Elio. Oile. Mara. Aram. Ma. Yon. Ki. Ich. No. Oim. Mam. Coreano. E. Frank. Matano. On. Natam. Eh? E' in meno di 40 minuti, ragazzi. Alzare il sovracciglio solo a una parte del labbro superiore. E' in meno di 40 minuti, ragazzi. 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 Grazie a tutti.